Un cordiale e buon pomeriggio dal Cirigliano di Aversa. Convegno che si apre con una prova riservata ai due anni. Non vincitore di 4.000 euro in carriera sul doppio chilometro, non corre Coco Bella, sono undici i concorrenti rimasti agli ordini dello starter. 6 partiranno in prima fila e 5 in seconda. Dallo steccato Krimgar, Carbone, Colosseus, Calcante, GPD, Colan di Meletro e Capitano Fass. In seconda fila Casa Blanca B, Coltrain Run, Campione Mont, Conny Brad, Condor Boccino, piuttosto arretrato Capitano Fass, sbaglia Colan di Meletro. E così alla chiusura delle ali, i più veloci sono Carbone e Colosseus. Colosseus ai lati di Carbone, i due apparigliati imboccano la prima piegata, poi subito Coltrain Run, partito sollecito dalla seconda fila. Entra e naviga in terza ruota in questa primissima fase di gara, Conny Brad. 200 metri in 14 e mezzo, insiste Colosseus, il figlio di Raja Mirchi, assume l'iniziativa. Passato di forza, Colosseus, con un quarto in 30. Era difficile prevedere la rottura contemporanea di, quasi contemporanea di Conny Brad e di un altro concorrente che sembra Umberto Di Vincenzo. Nel frattempo il leader può graduare a piacimento, si è rimessa Conny Brad e torna a puntare in avanti. 1.3 e mezzo il giro di pista, per ora a tabellone il 5 Colan di Meletro ed il 10 campione Mont. Il leader completa un primo chilometro in 1.19.3, seconda posizione Carbone con ai lati Conny Brad, poi a largo Krimgar. Conny Brad riesce a scendere in seconda posizione quando manca circa un giro alla conclusione. S'industria per linea esterna, Krimgar reitera l'errore Conny Brad. Adesso Krimgar sta per scendere davanti al calante Carbone. Prova ad avvicinarsi anche il boccino di turno, Condor Boccino. Nel frattempo ha preso in largo Colosseus ed ha circa 20 metri di vantaggio su Krimgar. Poi Condor Boccino dal gruppo si fa vivo anche Capitano Fas. Miglio in 2.7 scarsi, una frazione di fronte in 14.8 con Colosseus che se n'è andato per proprio conto. Ottima la progressione di Capitano Fas che è già in seconda posizione. A questo punto pare che sia il massimo che può prendere perché Colosseus da cavallo già esperto navigato se n'è andato per proprio conto con Sabatino di Vincenzo. Mentre Capitano Fas è avvicinato ma non battuto dal numero 9 col train run. Quindi l'arrivo probabile ed ufficioso è tre Colosseus, sei Capitano Fas, nove col train run. 3.6.9 media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1.20 e qualche spicciola almeno a vedere dal cronometro che probabilmente però avrà avuto qualche problema. 19 e frazione il primo chilometro. Sicuramente la media sarà più bassa. Vi terremo informati più tardi. Grazie.